Era finito di nuovo i manette per aver minacciato di morte il papà e la mamma dopo essere stato rimesso in libertà e tornato a casa e così i genitori sono finiti in una struttura protetta. È successo in Casentino dove era stato arrestato un 36enne che aveva detto alla mamma dammi soldi o ti ammazzo. L'uomo era già finito i manette lo scorso aprile dopo aver minacciato i genitori di morte perché voleva i soldi della pensione. Era così finito in carcere per minacce e maltrattamenti in famiglia e da poco era tornato in casa. Le porte del carcere per lui si erano aperte lo scorso settembre ma continuava a pretendere soldi da entrambi i genitori. Li aveva infatti nuovamente minacciati di morte. La scorsa settimana la situazione era degenerata al punto che la madre spaventata aveva chiamato i carabinieri. Alla vista dei militari il 36enne aveva iniziato ad inveire e contro di loro si era addirittura scagliato contro uno dei carabinieri che stava provando a calmarlo. Il militare è stato ferito ad un braccio, per lui sono così scattate nuovamente le manette. L'uomo dopo l'arresto questa settimana è comparso di fronte al giudice di Arezzo per l'udienza di convalida ed è stato rimesso in libertà in attesa del processo. E visto che la residenza del giovane è la stessa dei genitori, quest'ultimi sono stati costretti ad allontanarsi. La coppia, un 65enne ed una 60enne, entrambi i casentinesi, adesso si trovano al sicuro in una struttura protetta messa a disposizione da un ente pubblico.